Rosa, anche tu credi che io sia una visionaria? Susi, senti, ormai sono tanti anni che ti conosco. Tu vivi sempre in un mondo tutto tuo. Quando mi racconti dei tuoi romanzi parli dei personaggi come se fossero vivi. Le persone vere invece pare non ti interessano. Allora non mi credi? Non è questo. Voglio dire che se tu vuoi che gli altri ti credano, non bastano rumori, impressioni, sensazioni, che per te sicuramente vogliono dire molto, ma per gli altri sono solo supposizioni, fantasie. Sì, nessuno mi crede. Ma dai, non esagerare. Secondo me a quella mezza pazza di mai non è capitato proprio niente di male. Sì. Se veramente l'hanno rapita mi preoccuperei più per i rapitori. Ma se sei convinta del contrario c'è solo un modo perché la polizia ti creda. Trovare delle prove.